Senta, ma è vero che lei l'aveva consigliato prima al Milan e poi al Real Madrid? Sì, è vero. Si sarebbe trovato in condizioni, in platee molto grandi, è vero che lui ha allenato Roma e Lazio, però Milan e Real Madrid sono due realtà forti. L'aveva consigliato anche alla Lazio per la verità, che poi lo prese. Ah, ecco, la Lazio lo prese. E quindi, secondo lei, avrebbe fatto bene sia al Milan sia al Real Madrid? Io penso di sì, però, ripeto, per noi allenatori è importante non sempre avere i giocatori più talentuosi, ma almeno quelli più funzionali e con un'alta motivazione.